Siamo nel Thunder Mother Io vorrei salutare veramente tutti gli amici I buonici, Phil, tutti gli organizzatori Perché è stata una bellissima serata Grazie a voi, soprattutto a voi Grazie per la pizza Grazie per la pizza È importante Adesso compriamo il CD Grande, questo è il spirito cazzo Compriamoci cazzo il CD Chi dice che non c'è soldi Questo è per te Questo si chiama Run Chicken Run Grazie per la visione 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 Grazie a tutti 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 Buon proseguimento